A l'una e trenta, ora il legale del maestro Canello, vale a dire alla mezzanotte reale, la città salutò esplodendo l'anno nuovo. Ma io faccio l'una e mezza. Ma è lo stesso, alle gru! Andiamo tutti a casa via! Ho una bottiglia nuova di Brunella Ballor! Totti a casa Vantazzi! Via! Oh curia! Aia! Aia! Chi è che viene dalla mia macchina? Ho sette posti liberi! Attenti sotto! Buttate! Buttate! Una nuova roba nuova! Buon anno! Beh, io quasi quasi la lascio parcheggiata qui.